50 tra imprenditori, commercianti e artigiani dell'Alto Tavoliere dicono basta alle estorsioni e danno vita alla seconda associazione anti-racket in provincia di Foggia, intitolandola al Capitano Ultimo. Nel nome dell'ufficiale dei carabinieri che è catturotto Torrina, si sono riuniti cittadini ed ex carabinieri e poliziotti a Torre Maggiore, che dopo Vieste rappresenta il secondo baluardo di unità nel segno della legalità contro i fenomeni criminali che attanagnano le attività economiche, a cominciare da estorsione e usura. A guidare l'associazione è un carabiniero in pensione, il maresciallo Pietro Iaffaldano. Ci dovremo far conoscere avendo in cantire un progetto di sicurezza che noi poi a tempo debito porteremo avanti all'autorità competenti per far sì che venga approvato, discusso. L'associazione riunisce imprenditori e commercianti non solo di Torre Maggiore ma anche di altri comuni del nord della provincia di Foggia a cominciare dalla vicina San Severo. L'obiettivo è quello di organizzare attività di sensibilizzazione sul territorio nei confronti della piega del racket, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali. Una finalità importante, una finalità ultima, che è quella di dare una mano a chi veramente può uscire finalmente da questa gabbia e dire io ho questo problema, datemi una mano, datemi una mano e noi siamo lì pronti ed penso che tanta altra gente aderirà nei prossimi giorni, visto che comunque ci stiamo presentando adesso.